Tanto la maggioranza rilancia la riforma del fisco e dice no alla patrimoniale. Centrodestra all'attacco, poi dopo l'ipotesi di patrimoniale avanzata dall'ex ministra Fornero. Per Fratelli d'Italia la sinistra vuole mettere più tasse. Mentre da sinistra, anche dal PD, arriva sostegno alla proposta di introdurre un'imposta patrimoniale sulla casa, il governo Meloni tagliando le tasse fa aumentare occupazione, buste paga e investimenti. Siamo sempre più certi di essere sulla strada giusta. Sulla stessa linea la Lega. La sinistra rimette in pista ricette e personaggi di un passato fallimentare sotto il profilo economico e politico, quello dell'austerità. Con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale, in generale nessun attacco alle case e ai risparmi degli italiani. Finché saremo al governo, in calza Forza Italia con Tajani, non ci sarà alcuna patrimoniale. Noi in prima fila per evitare queste follie, aggiunge la senatrice Ronzulli. Riforma del fisco fondamentale per il centrodestra, dice noi moderati, ma mai e poi mai ci sarà la patrimoniale. Grazie a tutti.